Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video, un occhio più attento avrai notato che sarò tornato nella vecchia postazione per motivi proprio di autonomia personale, però c'è anche una novità, ho acquistato un piccolo led perché mi ero stufato di avere la sensazione di vivere nella casa della famiglia Adams e spero che sotto nei commenti voi mi direte che i miei video da questo in poi saranno più luminosi perché sennò batterò la testa nel muro. A parte gli scherzacci e le battute che non fanno ridere nessuno, quest'oggi vorrei tornare con un altro video tag perché dico sempre che voglio fare video diversi e poi non so quali fare quindi se volete nei commenti scrivetemi anche proposte per nuovi video. Per oggi però ci soffermiamo a fare il tag conosciamoci creato da Barry ASMR e in cui sono stato taggato da Melania Costantino. Troverete tutti i canali menzionati nelle info. Prima che qualcuno chiude il video vorrei assicurare il fatto che questo tag non sarà girato in ASMR in quanto non è strettamente necessario e c'è una sola domanda legata all'ASMR in sé quindi credo che le persone che taggherò possano farlo. Ma andiamo alle domande. Qual è il cartone animato che ti piaceva da piccolo? Da piccolo guardavo un sacco di cartoni animati. Vi faccio qualche nome. Heidi Marco, almeno credo che si intitolasse così, è ispirato al racconto dagli appennini alle ande che è un racconto mensile del libero cuore di Edmondo di Amicis che chi ha qualche annetto in più come il sottoscritto ricorderà. Poi altri un po' più nuovi, tra virgolette, un po' più vicini alla mia generazione, quella degli anni 90 come ad esempio Pokémon, Digimon, Digimon Tamers, Medaroth e poi basta, non me ne vengono altri perché sono veramente tantissimi. Qual è il genere di film che ti piace di più? Il mio genere preferito è il fantasy. Chi mi segue da un po' sa che sono un fanatico perso di Harry Potter ma devo dire che comunque spazio. Faccio prima a dirvi il genere che non guarderò mai che è l'horror soprattutto nella versione splatter che credo che si chiami così in quanto viene spruzzato più sangue. Tranquilli, non vi impressionerò più. Preferisci tè, caffè o cioccolata calda? Allora, io probabilmente per la mia patologia ho un palato un po' sensibile per cui adoro la cioccolata calda ma diciamo che non la prendo spessissimo perché devo aspettare il 54 ore perché si la prendi. Quindi dei restanti scelgo decisamente il tè in quanto non mi attira molto il caffè e lo prendo soltanto quando sto per morire di sonno. A proposito della mia malattia volevo sapere se a qualcuno potesse interessare una mia breve storia clinica in parte dovuta a quello che mi hanno raccontato e in parte dovuta alla mia esperienza soprattutto nei miei primi ricordi d'infanzia visto che di queste cose si parla sempre poco. Prossima domanda Qual è il tuo cartone Disney preferito? Il mio cartone Disney preferito credo che sia Mulan anche se devo dire vergognosamente che non ho visto il 2 e prima o poi dovrò trovare il modo di vedere anche il 2 quindi stiamo parlando del primo cartone animato di Mulan che comunque sdogana i ruoli uomo-donna che non erano solo rigidi nella Cina del tempo in cui è ambientato il cartone animato ma in larga misura purtroppo restano rigidi restano rigidi ancora oggi. Come ti piace passare il tempo quando sei solo? Girare video per YouTube perché non sopporto le interruzioni Cantare liberamente oppure studiando le mie canzoni Montare video per YouTube, guardare documentari Videogettare con gli amici senza che nessuno mi ascolti E via discorrendo Non li ho detti tutti perché appunto la domanda dopo chiede Quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono il canto YouTube appunto La grafica Tentare di tenere in vita le mie lingue straniere Mi piace anche molto l'esoterismo E infatti ho girato un video Da poco Sulle vostre esperienze paranormali Che ho visto che vi sta piacendo Vi ringrazio E ve lo metto nelle schede Poi sto cercando di riprendere a leggere Sto cercando di riprendere ad andare al cinema il più possibile Fregandomene se puntualmente ci vado da solo E la gente continua a tentare di chiudermi nella sala Quali sono gli elementi ASMR nei tuoi hobby? Non c'è un hobby che sia prettamente ASMR Dove ad esempio non lo so Mi si debbano accarezzare i capelli O parlare a bassa voce Cose di questo genere Sicuramente di tutti quelli che ho detto Il canto mi scarica moltissimo Quindi Forse questo è quello dei tanti che si può considerare simili ASMR Hai o hai mai avuto un animale domestico? Certo che sì Adesso è tanto che non facciamo video insieme Semplicemente perché non so che video fare con lei Però ho una meravigliosa bastardina di 4 anni Di nome Freya Di cui vi farò passare adesso una foto Magari la più recente Se potessi tornare indietro nel tempo Per visitare un'epoca diversa dalla tua Quale sarebbe? Generalmente Non sono un grande fan del passato Però devo dire che per questa specifica domanda Le persone che hanno 10-15 anni più di me Mi hanno parlato sempre molto bene degli anni 80 Sia per quanto riguarda Il fatto di divertirsi con poco Di avere più aggregazione tra le persone E quant'altro E quant'altro Sia per un fatto di apertura mentale In quanto testuali parole Di un figlio degli anni 80 Le casalinghe ascoltavano Boy George Vi faccio passare una foto per far capire Quale sarebbe la pietra dello scandalo Fatti un augurio per il futuro Trovare un lavoro E riguardare questo video Sorridendo abbracciato all'uomo della tua vita Riccardo Tagga due persone Per questo video Ho deciso di taggare Anna e Samantha Del canale Clay & Bonnie Voglio assolutamente le risposte di tutti e due Perché soprattutto sulla domanda Della macchina del tempo Sono curioso delle vostre risposte E mi mi Rieccomi qui Piccola interruzione Volevo almeno Salutarvi Anche se avevo Già attaccato Ricordarvi Di aiutarmi Se vi va Iscrivendovi Lasciando un like Se il video vi è piaciuto E condividendolo Con tutti i vostri amici Visto che YouTube Non ci vuole far crescere Ciao Al prossimo video